Ciao, benvenuti e benvenuti a un nuovo episodio di Hanover Brain. No, non è un nuovo episodio, ma semplicemente mi fa piacere augurarvi buone feste e celebrare con voi il compleanno di Hanover Brain. Sì, perché Hanover Brain compie un anno, un anno che per me è stato incredibile perché mi ha permesso di portarvi questi contenuti, di portare questi concetti alla vostra attenzione e spero che sia stati utili anche per voi, riceverli e metterli in pratica. Il prossimo anno l'obiettivo è di fare ancora meglio, di portarvi ancora più valore. Vi lascio con questa domanda. Che cosa volete imparare il prossimo anno? Qualunque cosa sia, Hanover Brain è qui per aiutarvi a farlo. Buone feste, ci vediamo il prossimo anno. Ciao!